bella tutti i miei slimes qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con una nuova rap review e oggi parliamo di certify lover boy di drake ma come sempre prima di cominciare mi piace commento se non lo siete iscrivetevi al canale e se non mi seguite sui social trovate tutti i link qui sotto la prima volta che si sentì parlare di questo progetto fu durante un concerto nel 2019 drake non svelò ancora il titolo ma annunciò di star lavorando al suo prossimo album viene poi confermato ufficialmente sui suoi social pensate un po qualche ora prima del drop di dark lane timo tape che è un album mixtape uscito proprio lo scorso anno proprio stava per uscire l'album lui qualche ora prima annunciò già certify lover boy il 24 ottobre 2020 esce left now cry later un singolo in collaborazione con l'ildur con cui fissa l'uscita di clb per gennaio 2021 alla fine come avrete sicuramente anche notato questa canzone non è stata aggiunta all'album e sinceramente sono un po sorpreso perché a mio avviso è meglio di gran parte delle canzoni presenti sull'album ma anche di questo avremo modo di parlarne più avanti arrivato gennaio per problemi personali drake posticipa l'uscita dell'album e finalmente il 27 agosto di quest'anno fissa l'uscita per il 3 settembre a partire già dal primo appaiono diversi cartelloni pubblicitari in svariate città insomma new york chicago atlanta e via dicendo in cui vengono svelati i featuring dell'album e infine il 3 settembre drop a certify lover boy il sesto album del rapper canadese il progetto viene dedicato a due modelle amiche di drake nadian tuli e miss mercedes moore entrambe morte durante proprio quest'anno una in un incidente mentre l'altra è stata trovata morta nel suo appartamento in texas quindi si pensa ad un omicidio la cover è stata designata da damien hurst un artista inglese e sinceramente si è presa più recensioni negative che positive sono raffigurate 12 donne incinte con diversi colori di pelle e vestiti c'è una teoria sul perché di questo artwork si pensa che sia una metafora per via fatto che l'album sarebbe dovuto uscire a gennaio e invece è uscito quasi nove mesi dopo quindi come se fosse un vero e proprio parto ma non è nulla di ufficiale tralasciando il lato grafico vediamo come il progetto è stato accolto dal pubblico alla prima settimana vende 613 mila copie sempre divise tra streaming e vendite dell'album fisiche a proposito delle streaming stabilisce un record ovvero l'album più streamato in un solo giorno sia di spotify che di apple music battendo il vecchio record che era detenuto indovinate da chi da scorpion sempre di drake formato da 21 tracce all'interno troviamo la presenza di 15 artisti esterni quindi featuring come sempre spartiti tra una traccia e l'altra così come per donda ho l'impressione che il disco si è suddiviso in due parti e la canzone che fa da spartiacque e yebba's earth break la prima è costituita un po più dalle hit quelle canzoni anche magari un po più radiofoniche mentre la seconda un lato secondo è un po più introspettivo nonostante anche in questo caso non mancano i bangers perché ci sono tracce come knife talk o no friends in the industry parlando delle canzoni vediamo quali sono le cinque che mi sono piaciute di più ma se dobbiamo dirla tutte sono anche le uniche che riascolterei way too sexy featuring young tag e future into deep featuring future champagne poetry knife talk con 21 savage you only live twice con rick ross e lil wayne iniziamo dalla prima a mio avviso la vera hit del disco più di 70 milioni di streaming per una collaborazione di altissimo calibro future perfetto come sempre ritornello super orecchiabile che rende proprio la canzone hit e fa anche una piccola strofa niente male young tag da sei a mio avviso ha fatto il suo ma niente di troppo memorabile e drake più o meno stessa cosa insomma l mvp di questa canzone non può non essere pluto e ancora una volta lo ritroviamo anche in in too deep e fa letteralmente il panico la canzone si apre in una maniera molto chill con una bella parte di drake insomma molto orecchiabile sappiamo che lui è abile a fare pezzi su questo genere di vibes ma poi viene surclassato dallo switch del beat e dalla successiva strofa di future in cui veramente fa collassare l'universo io vi consiglierei di ascoltare l'album solo per sentire questa sua strofa ve lo giuro per quanto riguarda champagne poetry la intro del disco e sin da subito si possono sentire quelle vibes a cui drake ci ha abituati già da tempo con lavori come take care o nothing was the same simile a questa canzone però ce ne sono almeno altre due tre se non tre quattro nell'album e questa è una cosa che mi ha dato un po fastidio però ne parleremo anche di questo più avanti knife talk potrebbe essere benissimo una canzone estratta da savage mode 2 la cui stessa produzione è stata affidata a metro booming l'intro che sentite all'inizio però è stata presa da feed the streets una canzone di juicy jay del 2017 che vanta i feet di asap rocky e project path anche questa è stata prodotta dallo stesso metro mood spietato e 21 in questo è un boss per il resto drake poteva lasciare l'intero beat a quest'ultimo perché per quanto le sue strofe non siano state pessime la differenza tra le due attitudini è abissale invece you only live twice è un'altra collaborazione abbastanza prestigiosa perché non ci sono future young tag ma troviamo rick ross e lil wayne se vi piace il rap fatto bene questa canzone fa per voi perché ci sono tre strofe rappate come cristo comanda e d'altra parte le doti tecniche di rick ross e lil wayne non hanno bisogno di presentazioni parlando un po' delle canzoni che meno mi sono piaciute ho fatto una top 3 flops che poi in realtà a me non è piaciuto un po' tutto il progetto però queste tre canzoni in particolare le reputo un po' filler o comunque canzoni che sinceramente non mi hanno preso più di tanto e sto parlando di fontaine's featuring thames raise my mind e 7am on bridal path per esempio raise my mind appesantisce un po' tutto il progetto non è una canzone così memorabile di conseguenza si poteva anche evitare insomma di metterla invece fontaine's assomiglia a canzoni che drick ha già fatto nel passato decisamente più interessanti di quest'ultima la prima che mi viene in mente è one dance che assomiglia anche un po' per via delle sonorità invece per quanto riguarda 7am on bridal path non è assolutamente male anzi è rappata anche in maniera abbastanza discreta ma come dicevo prima ci sono già canzoni che seguono un po' questo stile ovvero champagne poetry ma mi viene in mente anche the remorse e quello che proprio non mi ha convinto di più di certify lover boy è che mi è sembrato un tentativo andato male di ricreare quel mood o quelle vibes con cui già ci aveva deliziato con progetti come take care o nothing was the same non ci è aggiunto praticamente nulla di nuovo rappi su beat su cui è già rappato fai canzoni che in passato è già fatto in poche parole questo album mi ha davvero annoiato è stato come risentire un progetto di drake vecchio ma fatto ancora peggio poi di solito no in ogni album di drake c'è quella hit assurda che a prescindere dal fatto che lui come artista ti piace che quella canzone in particolare ti piaccia ogni tanto durante il giorno la canticchi perché è così catchy che ti entra in testa e non esce più bene qui non c'è nemmeno quella per fare un esempio in scorpion c'è in my feelings in views c'è one dance che l'avevo già citata prima qui la canzone con più streaming mi sembra che sia fair trade con travis scott che sinceramente come pezzo non mi ha detto assolutamente un cazzo parlando un po' anche degli altri beat quelli che più mi sono piaciuti sono future, mvp dell'album, 21 Savage e Kid Cudi ma menzione d'onore anche per Lil Durk, Rick Ross e Lil Wayne per quanto riguarda le produzioni parliamo sempre dell'album di un beat quindi non possono non essere curate ma come dicevo prima sono beat su cui Drake l'abbiamo già sentito però chiaramente non posso contestare la qualità cioè sono comunque belli però mi sarebbe piaciuto magari sentire qualcosa di un po' diverso o un'altra chiave insomma se dovessi dare un voto generale a questo CLB per me è un 4 e mezzo 5 un lavoro mediocre che personalmente non sono proprio riuscito a farmi piacere va bene l'essere mainstream e quindi accontentare un grande pubblico e questo significa fare canzoni diverse che piacciono un po' a tutti ma se questo significa anche abbassare la qualità della propria musica per me è un no voi invece cosa ne pensate? se ti fa l'overboy vi è piaciuto? ne valsa la pena aspettarlo? siete rimasti delusi? oppure a voi effettivamente lo considerate un gran album insomma? fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti che voto dareste a CLB? iscrivetemi anche questo se il video vi è piaciuto chiaramente vi invito a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video, ogni reaction, ogni contenuto che porto condividete questo con quanta più gente volete e potete noi ci vediamo ad un prossimo slet! ciao